Dalle ore 12 le danze sono ufficialmente aperte, tutte le liste sono state consegnate e i sette candidati a sindaco di Acireale hanno presentato le loro ipotetiche squadre di governo in caso di vittoria. Michele Ali, sostenuto da Acireale e Benecomune, ha designato tutti e sei gli assessori disponibili. Oltre al vice sindaco Maria Continella, figurano anche Enzo Dato, Marco Trovato, Gianfranco Caudullo, Florinda Danna e Sonia Abbotto. Roberto Barbagallo sarà appoggiato da quattro liste, Acireale Futura, Democratici per Acireale, Popolari per Acireale e Giovani di Cambiamo Acireale. Tre gli assessori designati in prima battuta, Nando Ardita, Adele Danna e Francesco Fichera. Mario Di Prima invece è il candidato sindaco di Acireale al centro, la sua giunta è composta da Pino Giordano, Carlo Zimbone e Fabio Saglimbene. Sono cinque le liste di appoggio per Michele Di Re, Forza Italia, 30 per Acireale, Progetto Acireale, Acireale Civica e Grande Acireale MPA. I suoi assessori designati sono Giuseppe Calì, Vera Pulvirenti e Antonino Di Fede. Sebbi Leonardi invece ha sei liste al suo seguito, Partito Democratico, Megafono, Acireale, Articolo 4, Primavera e Rinascita di Acireale. La sua giunta designata ha quattro componenti, Giuseppe Cicala, Santo Primavera, Antonio Raciti e Vera Ardita. Marcello Monaco ha il sostegno di due liste, Partecipazione Popolare e Movimento Civico Pro Acireale. Tre gli assessori designati, Rosario Bottino, Giulio Pugliatti e Alessandro Battiato. Il Movimento 5 Stelle del candidato sindaco Salvo Raciti ha indicato quali assessori Claudio Di Pasquale, Luca Lopresti e Angela Danna. Grazie a tutti.